Il nostro contributo rispetto al terzo no che la nostra piattaforma ha messo in campo e c'è il no alla Nato. Sarò schematico perché penso che sia utile in un'assemblea come questa andare a nocciare delle questioni per affrontarle al meglio nella nostra battaglia a politica generale. Quindi cercherò di contestualizzare in maniera molto breve la nostra battaglia contro la Nato nell'attuale conflittura internazionale di conflitto interimperialista. In questo senso che le tante notizie tra volta contraddittorie che tutti noi possiamo trovare su network e mass media occorre innanzitutto individuare le linee di tendenza generale che evidenziano uno scontro senza tricimenti tra poli imperialisti di cui la Nato è una delle tante camere di compensazione che mostrano evidentemente anche essa la colla con una serie di inclinature che in luce precomizzano un suo potenziale superamento se non una sua implusione in tempi chiaramente veri. Lo stiamo già osservando per il PTO, per il G8, poi il G7 eccetera eccetera. Lo stiamo osservando anche con le politiche trampiane di protezionismo e di Dazi che congiunturalmente dà un relativo respiro all'economia statunitense ma che aumenta in tempi medi la crisi sistemica della quale i paesi occidentali sono immensi da tempo che ha visto nel collo della Lehman Brothers di cui ieri è ricordo il decimo anniversario e è un epifenomeno. È un punto di caduta, un decorto che inizia però nella prima parte degli anni settanta nel secolo scorso, quindi una crisi sistemica da cui non solo noi siamo usciti ma che si sta approfondendo. Questo è il contesto nel quale la crisi la vediamo anche all'interno della Nato stessa. Già nell'agosto del 2008 la Germania disse di no all'applicazione dell'articolo 5 in difesa della Georgia, dell'allora Mikhail Sakashvili che poi abbiamo ritrovato un'altra volta in Ucraina come ministro di quel governo nazifascista. Poi seconda battuta l'ultima contraddizione ancora più forte è quella che stiamo vedendo in corto in Siria. Cioè praticamente in quella situazione è emersa una nuova profonda inclinatura dell'alleanza atlantica con un paese strategico come la Turchia dato che in una fase di indeterminatezza politica, economica e militare internazionale la quale viviamo ogni metà potenza cerca di ritagliarsi, uno spazio vitale che possa dare respiro alle proprie multinazionali, ai mercati e ai territori ad esse più vicine. Questo immane processo di scomposizione e di ricomposizione di aree di influenza e di dominio si usa, in questo immane si usano tutti gli strumenti classici dell'imperialismo, a partire dall'aggressione militare diretta, dalla costruzione di veri e propri eserciti, mercenari come l'Isis, ai tentativi di corda fomentati e diretti dall'esterno come sta succedendo in questi giorni, in questi mesi in America Latina, fino al colonialismo classico come la Francia nel Sahel. L'Unione Europea è benamente coinvolta in questo conflitto, giocando un ruolo centrale sia in termini macroeconomici, essendo il più ricco mercato commerciale e industriale del mondo, sia in termini direttamente militari attraverso la progressiva costruzione di un esercito europeo, approfittando di ogni contraddizione interna ed esterna per pianificare questo processo, dagli attentati nelle varie metropole europee fino al fenomeno migratorio. Quindi l'Unione Europea per farsi sentire nella competizione globale, ma anche per metterli in riga i riottosi che contestano le misure antipopolari, deve costruire un proprio esercito. L'Unione Europea del XXI secolo non è mai stata e mai sarà il capitalismo dal punto umano, impropriamente ritenuto in questi decenni, dalla sinistra moderata e cosiddetta radicale. Mentre si va allargando il fossato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, seguendo la contraposizione tra interessi tedeschi, che sono capofiliera di una buona parte della produzione industriale continentale e americani, la Commissione Europea ha avviato da tempo, senza troppo clamore, un processo di riflessione che si è concretizzato nel mandato affidato all'altro rappresentante per la politica estera e la sicurezza, Federica Mogherini, per una nuova e ampia strategia europea per la politica estera e la sicurezza. In questo percorso l'ultima idea dell'Unione Europea è la polizia di frontiera europea. Quindi è una novità relativa contro i migranti e si chiama polizia di frontiera. La Commissione Europea è pronta a mettere sul tavolo un progetto di legge per creare una forza di polizia che controlli i confini del vecchio continente. L'obiettivo sarebbe quello di trasformare il controllo dei flussi migratori irregolari in una competenza europea. Il progetto prevede la creazione di una vera e propria guardia europea delle coste e dei confini. I poliziotti con la bandiera a 12 stelle potranno sorvegliare sul territorio europeo, ma anche intervenire in paesi terzi e partecipare, se necessario, a operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari. Quelle che ad orna sono affidate ai singoli stati con accordi bilaterali con i paesi di provenienza dei migranti. Quindi siamo di fronte a un passaggio importante anche di integrazione forzale all'interno dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Queste decisioni precedono un lungo percorso di strutturazione industriale e militare del polo imperialista europeo. Jean-Claude Juncker nel suo discorso che ha tenuto sullo Stato dell'Unione mercoledì 12 settembre scorso, quindi pochissimi giorni fa, ha esortato l'Europa a diventare di più un attore globale, prendendo coscienza della propria forza sulla scena mondiale. Da questo punto di vista il Fondo Europeo della Defesa è in radicale aumento, 13 miliardi di euro all'industria militare. La Commissione Europea del giugno scorso ha pubblicato le proprie proposte per l'area riguardante difesa e sicurezza nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine del lavoro. I documenti ufficiali confermano un ritardo di finanziamento senza precedenti per le priorità militari e di sicurezza, in particolare con un aumento del 2.200% del Fondo Europeo della Difesa. Tale fondo sottvenzionerà le aziende private, sostenendo la ricerca e lo sviluppo di annuamenti, che saranno poi utilizzati o esportati in base a meri interessi industriali o a strategie nazionali. Il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, che copre il periodo dal 2021 al 2027, dedicherà due delle sei linee di azione a questione di sicurezza, militari e di gestione delle frontiere e delle migrazioni. Complessivamente queste due voci di bilancio, beneficeranno del maggior aumento relativo di fondi a disposizione. Se comparate con le altre politiche, sapete che le spese di vitali sono state tolte dal Fiscal Coop e dal Parigi del bilancio. Rispettivamente ci sarà un aumento del 180, tra il 180 e il 260% di aumenti per la sicurezza e la gestione delle migrazioni e delle frontiere con un sorprendente aumento del 2.200%. Il bilancio al lungo termine conferma il cambio di paradigma dell'Unione Europea verso un concetto armato di sicurezza con risposte militari a problemi evidentemente complessi, così come l'influenza del complesso militare e industriale sulle decisioni politiche insieme all'Unione Europea. Il Fondo Europeo per la Difesa si concentrerà in particolare sulla tecnologia militare senza equipaggio, come i sostenere uno sviluppo di armi completamente autonome, comprese quelle dei tali, i cosiddetti killer-soropoli. Il governo francese e tedesco, poi anche il nuovo drone militare europeo, Male, si chiama, riceva il sostegno dal fondo per il proprio successo e sviluppo e già ora l'azione preparatoria per la ricerca sulla difesa dedica un tetto del proprio bilancio ai sistemi senza equipaggio per la sovredenza marittima. Su questa strada i stati membri dell'Unione Europea hanno respinto qualsiasi limitazione vincolante allo sviluppo di armi completamente autonome nel programma europeo di sviluppo industriale della difesa. Un altro dell'obiettivo principale del Fondo Europeo della Difesa è quello di aumentare la competitività globale dell'industria militare nel continente. Poiché i mercati nazionali sono già troppo piccoli per assorbire la sovrapproduzione europea degli armamenti e fornire una maggiore redditività, l'industria militare sicuramente porrà un'enfasi ancora maggiore sulle esportazioni, lo vediamo con l'aggressione all'odier, compresa la nuova tecnologia militare sviluppata grazie a finanziamenti dell'Unione Europea, fornendo quindi un vantaggio competitivo cruciale. Le decisioni prese dalla Commissione Europea aumenteranno i profitti dell'industria delle armi, esacerbando la forza di armamenti a livello mondiale, fino alla fase della quale la spesa militare mondiale è a suo livello più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo processo lungo l'esercito europeo entrerà sempre in conflitto con la nuova, ma il processimo e il superamento di quell'alleanza non saranno né brevi né tranquilli, ma molto traumatici. In questo lungo raso di tempo noi dichiariamo che Eurostop non deve assolutamente passare la guaglia contro l'alleanza che continua e continuerà ad avere un ruolo nefasto a livello globale, ma è uno dei strumenti più contundenti contro i popoli nel mondo e contro le masse popolari del nostro continente. Grazie.